Eh lo so faccio video troppo lunghi, so qual è la vostra reazione quando dopo 10-15 secondi di video vedete la barra di scorrimento che sta ancora lì ferma Il fatto è che per divulgare il fitness bisogna essere semplici ma non superficiali, cioè ogni aspetto deve essere trattato perché altrimenti diventa un video tanto per farlo Io provo a inserire spezzoni che vi fanno un po' sorridere e anche battute abbastanza pecorecce e qualche parolaccia ma quello che cerco di trasmettervi è qualcosa veramente di utile ma va affrontato punto per punto Quindi quando mi commentate così mi viene da dire una cosa, ma se sono quasi 20 anni che faccio questo lavoro e se da quasi 10 anni faccio docenze sia in privato che con enti riconosciuti Un motivo ci sarà stato no? Opa! È segno che il fitness non è facile, mettere insieme tutte le tesserine del puzzle è tutt'altro che semplice, l'unica cosa facile è capirla questa cosa, come mai non la capite? Ma veniamo ad approfondire ancora un po' di più il discorso dell'ipertrofia raggiunta tramite l'HIT Cercherò, mi impegnerò in tutti i modi di fare video un pochettino più corti di modo che almeno ogni video trattiamo un elemento Per quanto riguarda l'ipertrofia io ne ho classificati anche se sarebbero parecchi di più 10 e 20, oggi vediamo il primo e cioè il movimento ciclico E gira tutto intorno alla stanza Allora per completare l'aspetto grafico della mia lavagna ultra tecnologica dovremmo fare una cosa così Per gli ingegneri che stanno guardando questo video, allora io ho messo le frecce in là ma potevano essere messe anche in là eh? Ci siamo capiti perché siete un po' puntigliosi però vi amo perché siete così Ciclicità del movimento che cosa significa? Significa che ogni esercizio con o senza sovraccarico Vi ricordo che nel video passato quando vi ho detto che a corpo libero sarebbe meglio non farlo Io vi ho dato un consiglio se non avete esperienza con esercizi fatti bene in flow Con tanta coordinazione e leve ultra svantaggiose a corpo libero Con i sovraccarichi fate parecchio prima Dicevo ogni esercizio deve essere eseguito in maniera ciclica Vi spiego prima il perché e poi vi dico come Quando dico che l'HIT deve avere solide basi scientifiche Se noi andiamo a vedere quello che c'è in ricerca sull'HIT E stiamo parlando di una ricerca scientifica lunga più di 60 anni Quindi stiamo parlando di tanta roba Gli studi che hanno poi creato i protocolli scientifici di HIT Lasciamo perdere se sono applicabili o meno Riportano tutti un comune denominatore Sono quasi e sottolineo quasi perché signori la totalità non esiste in nessun campo Quasi tutti sono fatti su macchine a volano ciclico Mi spiego Remo ergometro, vogatore Cicloergometro, ciclette Tutti i macchinari Ovviamente quasi tutti i macchinari Che presentano la possibilità di essere controllati da un team In una zona ferma, quindi un macchinario Che però presenta appunto una ciclicità dello stimolo che si sta dando Quello che poi dà la prevedibilità dei risultati Ho detto prevedibilità senza L'ho ridetto Oddio! Proprio il fatto di avere un'attenzione continua Su quel particolare muscolo Se si parla di uno stimolo periferico O su quel particolare sistema Se si parla di stimolo centrale Quando poi vi parlo e vi ho già parlato Il discorso di essere un bravo allenatore Se sai leggere la ricerca E poi trasportare con le varie interpretazioni È ovvio Sul campo Il discorso dell'allenamento Sulla persona o sul gruppo di persone E' da sé che se non stai facendo un'attività di performance Quindi non stai utilizzando un macchinario Che simuli quello che poi andresti a fare in gara Siccome tranne rarissime occasioni Il sovraccarico ha un movimento lineare Non circolare Allora noi dobbiamo cercare In ogni esercizio svolto in un allenamento Che si possa chiamare HIT Deve essere fatto senza nessunissimo tipo di pause Che vuol dire senza nessunissimo tipo di pause? Vuol dire due cose fondamentalmente Lo sappiamo che quando strutturiamo una scheda di allenamento E indichiamo un TUT Un time under tension Cioè la cadenza di ogni ripetizione Spesso e volentieri mettiamo O il fermo in buca per uno squat O la pausa isometrica Per esempio in una chest press eccetera eccetera Ecco quei piccoli stop Quei piccoli fermi in dead stop Cioè tante cose non vanno assolutamente messe Quindi il movimento deve essere continuo E inoltre bisogna ricordarsi Che non c'è nessuna enfasi In nessuna fase dei movimenti Quindi concentrica Muscolo che si contrae e si accorcia Eccentrica Muscolo che si contrae e si allunga Devono durare la stessa quantità di secondi Nessuno vi dice di allenarvi con il metronomo Anche se c'è chi lo fa Ma bisogna cercare all'atto pratico Di riprodurre quella che è la ciclicità del movimento Pur non facendo un movimento ciclico Allora in quel caso Può essere poi messo in gioco Il concetto di tensione continua Che però vediamo nel prossimo video E volevi Quindi un elemento alla volta Spero che la lunghezza di questo video Sia stata un po' più di vostro gradimento Mettete like a questo video Commentate Condividete Non commentatene Vieni quindi al dunque Perché se stai cercando il dunque Attraverso un video Scaricati le schede su internet E allenati con quelle Io non ti posso essere di aiuto E sai facciamo a chi si stufa prima eh Porca madre Madonna, 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 Madonna